Buonasera alla Finge! Signori, ecco voi! Pallin, Lulish e Osternak! Ehi, piazzini in merda! Adesso ascolterete della vera musica! Pallin, Lulish e Osternak! Nu! In questo caso, non è un dato che l' sónia, E dopo ciò, per la procedura giardina, E in questo caso, non è stato un altro, E soprattutto, non è stato un altro, Non è stato un altro, Ero, un altro, E ossetto un altro, Oh, guarda chi c'è. Ehi, dimmi, hai scritto altri libri? Sì. Sai, ho letto tutti i tuoi libri. Come si chiamerà il prossimo? Il treno delle 12.07. Sarà un altro libro difficile? Sì, nel primo capitolo pioverà per mezz'ora. Ah, e chi sta suonando? Sono i Brand Tumor. Ah, e così sarà un libro difficile? Sì. E qual è il titolo? Io me ne vado, addio. Oh, è un bel titolo. Stavi spuntinando qualcuno? Ora ascoltami, dio di tutti i manager. Devi dire a staff Van Est che deve presentarci come i The Feminist, quattro tipi handicappati di ostenda. Ok? Ci saranno donne gay in giuria e questo potrebbe aiutarci. E togli la merda rossa dalla faccia che fa impressione. Hai fatto un'altra vittima? No. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.